Alfa Romeo a Dubai presenta la stampa mondiale da Stelvio Quadrifoglio. BMW lancia sul mercato il suo nuovo scooter, il C400X. Se a Tarona arriva in Italia e va controcorrente con la campagna Fai di testa tua. Nella splendida cornice del Jebel Jace di Dubai, Alfa Romeo lancia la sfida alle rivali tedesche presentando al giudizio della stampa mondiale la Stelvio Quadrifoglio. Un SUV funzionale spazioso che si apprezza molto anche nella guida in città ma capace al tempo stesso grazie ad un propulsore nato dalla collaborazione fra elementi di Ferrari e Maserati ad un assetto a dir poco perfetto ad una ciclistica impeccabile di regalare emozioni, potenza e velocità anche ai più esigenti. Tutte le caratteristiche che le hanno permesso di girare sullo storico tracciato del Nürburgring che per Alfa rievoca storici grandiosi record in soli 7 minuti e 57 secondi. Sotto al cofano nasconde un poderoso motore 2009 biturbo capace di sprigionare 510 cavalli di potenza che la fanno scattare da 0 a 100 in soli 3,8 secondi e le fanno raggiungere i 283 chilometri orari come velocità massima. A Dubai è stata presentata come il SUV più veloce del mondo, ha già conquistato il cuore degli arabi che l'hanno ribattezzata Stelvio del deserto. Dopo aver lanciato nel 2011 gli scooter C600 Sport C650 GT, BMW fa un ulteriore passo in avanti nella mobilità urbana con C400X, uno scooter di categoria premium di media cilindrata in grado di garantire comfort e un'esperienza di guida entusiasmante. È spinto da un motore monocilindrico dalla massima efficienza con una potenza di 34 cavalli. La trasmissione della potenza avviene tramite un cambio CVT e dal braccio in cui è inserito un innovativo cuscinetto che permette di ridurre al minimo le vibrazioni. Il controllo della stabilità garantisce maggiore sicurezza in accelerazione anche su superfici scivolose, tante poi le possibilità sul fronte della connettività. Come optional si può scegliere il quadro strumenti multifunzione con display a colori TFT da 6 pollici e mezzo. Fra i tratti distintivi c'è sicuramente il faro anteriore. C400X è disponibile in due colorazioni, la Zenith Blue e la Alpine White. Passeggiando a piedi o girando in macchina per Milano magari qualcuno ha già notato i graffiti sull'asfalto con cui Seat, in occasione della campagna di comunicazione Fai di testa tua, che accompagna l'arrivo di Arona in Italia, ha colorato la città. Graffiti dedicati a visionari fuori dal coro della storia del nostro paese che rappresentano al meglio i valori di Arona. Un'attività che è anche fatto da prepista per un'installazione temporanea Love, una delle opere più irriverenti e significative dell'arte contemporanea internazionale che si potrà ammirare a Milano in Piazza Fari fino a Natale. L'irriverente idea alla base della campagna si allinea perfettamente al gene italiano del fare. Un'auto dalle dimensioni compatte ma con tanto spazio e molteplici possibilità di personalizzazione per rispondere a tutte le esigenze del cliente. Per gli allestimenti si può scegliere fra l'entry level, reference o style fino ai top di gamma Excellence OFR. La gamma dei motori comprende propulsori benzina dai 95 fino ai 150 cavalli e diesel.